Circa 100 film in proiezione, un contest internazionale con una giuria tutta al femminile, workshop con esperti del settore, escursioni, talk show. Dieci giorni di appuntamenti gratuiti, torna la mostra del cinema di Taranto che con la sua settima edizione chiama raccolte in Puglia le eccellenze dei paesi che si affacciano sul mare Nostrum. La nuova edizione, presentata nel Castello Aragonese, si terrà dal 5 al 9 e dal 12 al 16 settembre tra la città vecchia di Taranto e l'oase dei battendieri sulla Circuma Piccolo che per l'occasione diventeranno sale cinematografica all'aperto e ospiteranno una serie di eventi. La direzione artistica dell'evento è del regista Mimmo Mongelli. Mediterraneo, dicevamo, ma questa volta abbiamo messo un più perché noi riteniamo che non è soltanto una questione geografica dei paesi che si affacciano sul bacino ma è qualcosa di molto di più, è un'area culturale del Mediterraneo quello che ci interessa. Il Mediterraneo ha influenzato le culture di moltissimi popoli anche al di là dell'oceano. Questo è il senso. Per questo abbiamo accolto film che provenivano da tutte le parti del mondo, ovviamente condizionati dalla cultura mediterranea. Per questo abbiamo fatto anche delle rassegne molto ma molto articolate e complesse di film. Ci saranno film in concorso, film fuori concorso, meritevoli anche se non aderenti a quello che era il regolamento del festival. E poi una rassegna che faremo qui in Piazza d'Armi, qui al castello, che si chiamerà EMSIA, così come l'anno scorso, e che riguarderà specificamente film che sono sul Mediterraneo. La mostra del cinema di Taranto è organizzata da Levante International Film Festival, mostra del cinema di Taranto, realizzata nell'ambito della Puglia al Cine Festival Network 2023, col sostegno di Regione Puglia, Puglia Film Commission, e con la partecipazione del Comune di Taranto, rappresentato per l'occasione dall'assessore alla risorsa mare Gianni Azzaro. Mettere il Mediterraneo al centro di una riflessione è proprio l'orizzonte che abbiamo scelto come amministrazione comunale di delineare per raccontare proprio la nuova Taranto. E per l'appunto anche la risorsa mare, che per molti è un punto di partenza, è un punto di arrivo, è di molteplici percorsi, vuoi essi che siano economici o come in questo caso artistici, sono soprattutto quello di riscoprire un po' la nostra identità millenaria e quindi anche per riconnettere la nostra comunità ionica che ricordiamo tutti è arrivata dal mare e sul mare ha costruito la propria storia. Quindi vedere anche qui tanti ragazzi e quindi anche il coinvolgimento di tanti ragazzi che saranno impegnanti in queste giornate è per noi di buon auspicio perché sono loro la nuova classe dirigente e sono loro che dovranno continuare questo percorso avviato che vuole sì che Taranto ritorni a essere centrale nel Mediterraneo.